Siamo riusciti a dimostrare come oggettivamente non vi fossero i presupposti per intentare il giudizio e su questo la sentenza della Corte dei Conti ci ha dato pienamente ragione perché comunque è stata affermata la circostanza che non vi è alcuna prova della ingerenza del sindaco Calogero Filetto nell'attività di gestione così come è corretto che sia. L'avvocato Andrea Ciulla che con il collega Carlo Commandè dello studio legale di Palermo ha rappresentato e difeso il sindaco di Agrigento nella vicenda del presunto danno erariale nei confronti del comune di Portempedocle comune amministrato in precedenza da Filetto assieme all'ex funzionario Salvatore Lesci ha espresso soddisfazione per l'esito finale con la sentenza di assoluzione per l'ex deputato regionale capo dell'amministrazione del capologo Agrigentino. Il diretto interessato Lillo Filetto non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione sulla soluzione mantenendo un law profile che in questa vicenda lo ha sempre accompagnato. Non parlo è stata la risposta secca del sindaco Firetto alla richiesta di commentare la notizia della soluzione. Chi parla è invece il suo legale. In questo giudizio, dice l'avvocato Ciulla, era stata chiesta per il sindaco l'applicazione della misura aggiuntiva dell'interdizione dai pubblici uffici che in caso di condanna avrebbe comportato una decadenza ma la sentenza sarebbe stata appellata e quindi si sarebbe dovuto attendere il giudizio finale. Il funzionario invece non rischiava questa sanzione perché il giudizio era duplice, spiega ancora il legale dello studio Comandè. Sindaco e funzionario venivano chiamati a rispondere per un asserito danno erariale di circa 3 milioni e 37 mila euro ripartiti in un milione e 200 mila euro a carico del sindaco Filetto e la residua parte a carico del funzionario Alesci. E poi solo per il sindaco veniva richiesta l'applicazione di questa sanzione interdittiva a nostro modo di vedere del tutto infondata così come correttamente riconosciuto dalla Corte. Oggettivamente e testualmente prendendo quello che è scritto nella sentenza non risulta affatto dimostrata l'ingerenza del sindaco nella gestione amministrativa. La sanzione veniva richiesta nella misura in cui il sindaco avesse contribuito con la sua condotta a determinare le cause del dissesto e su questo con chiarezza viene detto che il capo dell'amministrazione comunale non ha adottato atti che hanno determinato il dissesto. In sostanza l'organo di indirizzo politico cioè il sindaco non ha in alcun modo adottato degli atti che hanno interferito nella gestione del dirigente e in quanto tale la Corte ha riconosciuto esente la responsabilità. Il comune di Parto Empedocle da dove è partita la relazione dei revisori dei conti trasmessa alla procura regionale dei giudici contabili è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in 5.500 euro per Filetto e 7.500 euro per il funzionario Alesci. Uno dei principali avversari politici di Filetto Giuseppe Di Rosa che si è incatenato davanti al municipio in attesa della sentenza ha detto almeno così sappiamo da chi siamo amministrati.